Un anno fa è stata autorizzata la richiesta della Cementi Rossi, azienda di laterizi con sede a Piacenza, di bruciare 95.000 tonnellate di pneumatici. Otto mesi fa l'inceneritore di Tecnoborgo, a due passi dalla città emiliana, ha richiesto l'autorizzazione a bruciare rifiuti speciali da fuori provincia e la procedura è ancora in corso. Quest'anno la Buzzi Unicem, altro cementificio piacentino, a cavallo tra Lugagnano e Vernasca, in Alta Valdarda, ha chiesto l'autorizzazione alla provincia di poter bruciare 60.000 tonnellate di un materiale chiamato Carbon Next, fatto con rifiuti solidi urbani, trasformandosi di fatto in un inceneritore di rifiuti. Un quadro a dir poco allarmante, visto che il territorio piacentino rischia di dover convivere con tre inceneritori attivi per i prossimi 30 anni e con la benedizione del decreto sblocca Italia. Purtroppo la crisi economica che sta colpendo la nostra penisola e quindi anche Piacenza impone a un certo tipo di industrie di premere l'acceleratore dove possono e nel caso dei cementifici in effetti questo potrebbe determinare un peggioramento importante della qualità dell'area della nostra città. È un modo per far fronte alla crisi utilizzando dei combustibili alternativi a quelli tradizionali che costano meno, in certi casi sono incentivati e quindi le aziende spingono in maniera importante su questi aspetti. Ancora una volta quindi il decreto legge sblocca Italia varato dal governo Renzi il 13 settembre scorso continua nella sua evidente azione anti-ecologica. Ecco perché il comitato dei cittadini per l'aria si mobilita con l'organizzazione di una piattaforma informativa e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Evidentemente siamo preoccupati per questo e tra le altre cose vi volevamo segnalare la possibilità di prendere coscienza di questo problema che è importante attraverso degli incontri pubblici. Uno molto importante ci sarà sabato 14 febbraio alle ore 16 all'auditorium della fondazione della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano in centro storico a Piacenza, quindi in via Sant'Eufemia. In questo incontro che è organizzato dall'ISDE ci sarà la possibilità di sensibilizzarsi sugli effetti sia nel breve che nel lungo termine dell'inquinamento atmosferico. Durante uno di questi incontri di fatto poi è nato il comitato Piacentini per l'area perché veramente sono da un certo punto di vista molto terrorizzanti perché il numero dei decessi annui che si possono riferire direttamente all'inquinamento atmosferico sono nell'ordine di diverse decine.